In che modo questo contratto risponde alle esigenze del mondo del lavoro e del mondo dell'impresa? Il contratto è ispirato ai principi che caratterizzano il rapporto sindacale tra Sistema Impresa e Confsal che trovano i propri baluardi nella promozione della formazione continua, finanziata, nella razionalizzazione delle risorse destinate alla bilateralità per far sì che gli operatori del settore abbiano una risposta immediata alle rispettive esigenze, l'incentivo alla somministrazione del lavoro quale strumento di flessibilità dei rapporti di lavoro e nell'ambito di tale contesto Fismic ha avanzato delle proposte innovative che abbiamo ritenuto meritevoli di particolare attenzione pur, se vogliamo, carpendo l'esigenza di un costante monitoraggio che ci siamo impegnati ad effettuare per far sì che si possa verificare un effettivo allineamento tra la disciplina contenuta in questo testo contrattuale e quelle che sono le effettive esigenze delle imprese e dei lavoratori. Oggi con la legge 148 del 2011 è un obbligo per le organizzazioni sindacali effettuare tale tipo di monitoraggio, di valutazioni perché c'è la possibilità di intervenire anche a livello territoriale piuttosto che aziendale per risolvere eventuali problemi di disallineamento.